Abbiamo visto tutti, è una partita che ha dato poche emozioni, venivamo una settimana un po' particolare, c'era della delusione, noi volevamo riscattarci in questa partita, non ci siamo riusciti e come hai detto giustamente tu l'unico episodio negativo che ci è andato contro abbiamo subito il gol e poi non siamo stati bravi a rimettere l'ampia della partita però bisogna dare merito anche agli avversari che hanno fatto una partita tosta, una partita difensiva e ci hanno lasciato pochi spazi. Si deve ripartire, adesso c'è questa sosta, meno male viene da dire l'Atalanta resetta un po' per poi ripresentarsi alla ripresa del campionato inquadrata, a posto, insomma via tutte le scorie dovute all'eliminazione dall'Europa League. Sì, sicuramente da quando siamo partiti due mesi molto intensi abbiamo preparato un sacco di partite abbiamo fatto, se non mi sbaglio, 13 partite e sono tante, abbiamo veramente dato tutto sotto il profilo dell'impegno, della dedizione al lavoro e tutto quanto però non c'è neanche da deprimersi perché comunque abbiamo perso una partita, siamo all'inizio del campionato e ci sono ancora tantissime partite per poter rimetterci in pista e cercare di raggiungere più obiettivi possibili per questa squadra, per questa gente che anche stasera ci è stata vicino e le ringrazio a nome di tutta la squadra.